Bentornati su MyFootballJersey, vi mostro questa maglia speciale del Brighton per l'Europa League per la stagione in corso ovviamente in edizione FAN! FAN! Maglia strepitosa, devo dire che questa sfumatura su questo verde menta mi piace tantissimo con questo motivo. Maglia molto elegante da portare tutti i giorni, ottima qualità, il prezzo lo volete qui sopra, decidete voi cosa fare. Se volete maggiori dettagli trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi ancora più conveniente. Ora vi lascio la parte finale, prima però iscrivetevi al canale, è un piccolissimo gesto ma che ci aiuta a mostrarvi recensioni come questa tutti i giorni. Per oggi è tutto, alla prossima! Grazie a tutti!